Ciao fiorellini, fiorelline, pure oggi facciamo il video Cioè i miei capelli ricci Vediamo un po' come sono i miei capelli ricci Degrati, perché sono da caso Le gavi sono un po' più decenti delle gavi Vediamo Ecco, mi sono fatta la permanente Wow Però soltanto che fa troppo caldo e io non ce la faccio Questi sono i miei capelli naturali Però c'ho caldo e non ce la faccio Ok, sono vestita perché devo andare a vedere Devo fare dei documenti a mia figlia Quella c'è la bambina piccola E devo andare alla posta E allora mi sono già vestita Sono andata a camminare Come avete visto, poi mi sono fatta la doccia E sono andata E sono un mostro di fare colazione Per forza Toccafalla Pure se io non la facevo prima Però con la dieta toccafalla per forza Tiriamo giù E vi facciamo colazione Con le nostre fette biscottate Quando sono andata alla dottoressa Mi ha chiesto se facevo colazione E con chi la facevo Io la faccio col tè Perché l'orzo non riesco a bevelo Perché è troppo amaro senza zucchero Vabbè, il tè va bene Oh E' ok Beviamo il tè Poi questo è buono Perché è frutti rossi Lo compro a nebi Chi è di a parte qua Da me lo sa Tranquillo, è un negozio che sta aperto 24 ore su 24 Se ti scordi qualche cosa di notte Che basta e vai là E' aperto Questa cosa è bella comunque Allora Io adesso vi lascio E ci vediamo allo spuntino Ciao Ecco adesso Ma prima mangio l'insalata Come ho mangiato ieri Perché sta cosi la pasta Perché ne cerco Ci vuole più tempo Ok Adesso intanto mangiamo l'insalata Guarda che l'insalata è lunga Non le tagliano Non le tagliano Ok Mangiamo Cascadello l'insalata Mangiamo l'insalata Ok Mangiamo l'insalata Ci vediamo dopo Ecco Ho finito A mangiare L'insalata Adesso andiamo A fare la pasta Ecco Adesso Mangiamo la pasta Prendiamo Due cucchiaini Di parmigiano Ok E maneggiamo Para il farja E' bestia E' altro E' integrale Della ह mozzarella senza lattosio ok ci vediamo dopo allo spuntino andando mangio ciao ciao fratellini prima l'ho mangiata a banana netto devo mangiare un netto di banana invece quando man... allora non l'ho letto bene allora l'altra frutta posso mangiarla a due etti ma la banana è figa e l'uva non è un netto solo perciò questo è un netto che è una banana e non mangio come spuntino andando a preparare la cena per questa sera ci vediamo dopo e ciao ecco fratellini fratelline allora i spinacci mesasose due etti e mezzo spirali pochissimi e oggi mi sono fatti il pesce a cartoccio che dopo mangiamo insieme adesso tiriamo giù e mangiamo la verdura l'ho fatta freddare perché non fa caldo poca poca ho messo due uccia di litri di olio e sale integrale ok mangio poi ritorno ah ecco finito e adesso scartiamo il primo fischi questo è lì e tutto dovrebbe essere più buono perché rimasta tutto dentro, lo saverò? Oddio! Buono assaggiamo. Questi sono 2,50 m di pesce. La prende meno perché pesava troppo dolore. Assaggiamo. Buono! Ok, ci vediamo dopo, all'ultimo saluto. Ecco, pure oggi ho finito questo video, spero che vi è piaciuto e ci vediamo domani con questa tipologia di video che uscirà, non so quando uscirà, domenica penso uscirà perché domani che è? Fammi vedere, allora domani è 22, 23 e 24 ce l'ho già il video e lo faccio uscire il 25, quello che registro domani. Il 26 registro quello che registro domenica perché dopo domani vado al matrimonio, perciò quello di domani lo registrano un po' di tempo fa, per sicurezza. Perciò domani, sabato, ci sta il video che ho fatto un po' di tempo fa e quello che registro domani scapperà domenica e quello di domenica che non mangio la pasta scapperà martedì. No, non è di, no, non è di, no, non è di. Va bene, io adesso vi lascio, scusate se tante volte sabato o domenica non ci sono tutti e tre video perché siccome il sabato vado al matrimonio e non so se riesco a fare video. Va bene, questo ci sarà domani e poi sabato c'è il matrimonio e sabato non ho registro e perciò vediamo. Io adesso vi lascio, ciao al prossimo video. Ciao al prossimo video.